Buongiorno ragazzi, sedetevi pure, inizia la lezione. Il DNA è la più grande molecola presente negli esseri viventi e contiene tutte le nostre caratteristiche. La struttura del DNA fu scoperta nel 1953 dagli scienziati James Watson e Francis Crick. Dove si trova il DNA, dentro ad ogni cellula, è situato un nucleo, che a sua volta contiene i cromosomi, i quali sono formati dal DNA. La forma. La forma del DNA ricorda quella di una scala a chiocciola. La struttura. Il DNA è formato da due fasci laterali, costituiti dal desossiribosio, zucchero, alternato all'acido fosforico. I pioli centrali, invece, sono formati dall'alternanza timina-adenina-adenina-adenina-timina o citosina-guanina-guanina-citosina. Diversità. Ogni DNA è diverso e cambia a seconda della disposizione delle lettere. Esistono delle eccezioni. Sì, infatti, i gemelli monozigoti possono avere la stessa sequenza genetica, ma solitamente funziona in modo diverso. Queste piccole diversità si possono manifestare in ambito caratteriale o fisico. Vi ringrazio dell'attenzione. A presto!